Ciao e bentrovati in questo nuovo video. Ebbene sì, sono già passati due mesi dal trapianto. Quindi andiamo avanti col nuovo step del metrotrapianto. Dopo la sigla. Leggiamo insieme cosa dice il metrotrapianto riguardo al secondo mese. Guardandoti allo specchio vedrai ancora pochissimi capelli e noterai una leggera caduta, ma niente panico. Si tratta di un fenomeno naturale che serve a eliminare i capelli più deboli per permettere la crescita di quelli più forti e sani. Allora, dico subito che io sono assolutamente soddisfatto perché, come vedete, non ho perso tantissimi capelli. Forse un 50% di quelli che mi erano stati trapiantati qui sul davanti. Nella chierica probabilmente qualcuno in più. Ma è tutto sotto controllo e l'aspetto generale dei miei capelli, come potete vedere, non è niente male. Nel metrotrapianto vengono riportati i prodotti da utilizzare in questo periodo che sono Lo shampoo per tutti i giorni, che io ho qui, ed è quello della Pasulin. Il Minoxidil al 5%, che nel mio caso è il Rogaine, secondo me il migliore sul mercato. Gli integratori alimentari della Pasulin. E non è riportato qui, ma è stato fortemente consigliato dalla clinica. Il Finasteride 1 mg. Adesso, riguardo al Finasteride, ci sarebbe da fare una lunga, lunga, lunga considerazione. Infatti è un farmaco che ha tanti pro, ma anche tantissimi contro. Sostanzialmente, per chi non lo sapesse, è un farmaco che abbassa il testosterone. Che tramite un processo chimico e la sua trasformazione, è quello che fa perdere i capelli. La clinica l'ha consigliato in quanto l'alta concentrazione di testosterone non andrebbe a far cadere i capelli trapiantati, ma continuerebbe a far cadere quelli che ancora non sono caduti. Viene consigliato di utilizzarlo sempre, fino almeno ai 40 anni. Dopo rallenta un po' la caduta dei capelli, ma addirittura lo consigliano pure oltre i 40 anni. Infatti, come avete visto nel video della riunione post-trapianto in clinica, viene consigliato di utilizzarlo per sempre. Non so se io lo utilizzerò per sempre, ma al momento continuo a utilizzare il Finasteride. Quindi, questo è il risultato dopo due mesi, più che soddisfacente, nonostante mi avessero preparato al peggio. Io non posso lamentarmi. Ci vediamo per lo step dei tre mesi, quindi fra un mese. Per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione del video. Vi ricordo che in descrizione trovate il codice sconto per l'acquisto dei prodotti Puzzlin sul sito ufficiale. Colgo anche l'occasione per ricordarvi che, in quanto referente di Ara Travel, qualora voi lo voleste e voleste iniziare il cammino che vi porterà poi al trapianto, potete contattarmi all'indirizzo email che trovate qui in basso e sarò io personalmente a seguirvi e a guidarvi verso il cammino che vi porterà poi al vero e proprio trapianto di capelli. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare la campanella per non perdere i prossimi video. Per oggi è tutto e alla prossima. Ciao! Ciao!